Illustri professori, premi Nobel, geniali inventori, tutti conoscono i grandi uomini di scienza. Ma le donne? Le scienziate di oggi esistono e come. E io voglio andarle a trovare. Dalle pioniere del passato alle eccellenze italiane dei nostri giorni. Sono alla ricerca delle storie delle grandi scienziate di oggi e delle loro scoperte. Sulla F un appassionante viaggio nella scienza in compagnia di una guida molto speciale. Sono Gabriella Grayson. Sono fisica e divulgatrice scientifica. E quella che sto per raccontarvi. La teoria di tutte. La teoria di tutte. In onda sulla F e disponibile on demand.